Di Stendhal, la certosa di Parma. Voce di Lorenzo Pieri. Libro primo, capitolo quinto, prima parte. Tutto era successo in meno di un minuto. Le ferite di Fabrizio erano cosa da poco. Gli fasciarono il braccio con delle bende ricavate dalla camicia del colonnello. Volevano preparargli un letto al primo piano, ma Fabrizio disse al sergente, mentre io me ne starò lassù al primo piano accudito da tutti, il mio cavallo abbandonato nella scuderia potrebbe annoiarsi da solo e andarsene con un altro padrone. Mica male per una recluta, esclamò il sergente, e misero Fabrizio sulla paglia fresca nella stessa mangiatoia alla quale era legato il suo cavallo. Siccome cominciava a sentirsi molto debole, il sergente gli portò una scodella di vino caldo e fece due chiacchiere con lui. Qualche complimento lasciato cadere nella conversazione innalzò il nostro eroe al settimo cielo. Fabrizio si svegliò soltanto all'alba del giorno dopo. I cavalli lanciavano lunghi nitriti e facevano un chiasso indiavolato. La scuderia era piena di fumo. Sulle prime non riuscì a capire la ragione di quel trambusto, non sapeva nemmeno dove si trovava. Poi, semisoffocato dal fumo, ebbe il sospetto che la casa stesse bruciando. In un batter d'occhio inforcò il cavallo e fu fuori dalla scuderia. Alzò la testa. Il fumo usciva con violenza dalle due finestre sopra la scuderia e il tetto era coperto di un fumo nero che saliva vorticosamente. Durante la notte un centinaio di fuggiaschi erano arrivati alla locanda del cavallo bianco. Tutti gridavano e bestemmiavano. I cinque o sei che Fabrizio poteva vedere da vicino gli sembrarono tutti brilli. Uno volle fermarlo e gli gridò «Dove porti il mio cavallo?». Quando Fabrizio fu lontano un quarto di lega, si voltò indietro. Nessuno lo inseguiva. La casa era in fiamme. Riconobbe il ponte, si ricordò della ferita. Il braccio, troppo stretto nelle bende, era molto caldo. «Cosa sarà successo al vecchio colonnello? Ha dato la sua camicia per farmi medicare?». Quella mattina il nostro eroe era straordinariamente tranquillo. Il troppo sangue perduto lo aveva liberato del lato avventuroso del suo carattere. «Prendiamo a destra», pensò, «e battiamocela». Si mise a seguire senza fretta il corso del fiume, che passato il ponte scorreva sulla destra della strada. Ripensava ai consigli della vivandiera. «Che amica», pensava, «che sincerità di carattere». Dopo un'ora di cammino cominciò a sentirsi molto debole. «Ah, che stia per svenire?», si domandò. «Se svengo, mi rubano il cavallo e forse anche i vestiti, e insieme ai vestiti il tesoro». Non aveva più la forza di cavalcare, cercava soltanto di reggersi in sella. Quando un contadino che zappava in un campo alato della strada vide il suo pallore e andò ad offrirgli un bicchiere di birra e del pane. «A vederla così pallida, ho pensato che fosse un ferito della grande battaglia», disse il contadino. Mai soccorso arrivò più a proposito. Nell'addentare il pezzo di pane nero, Fabrizio sentì che gli occhi gli facevano male solo a guardare intorno. Quando si riprese, ringraziò il contadino. «E dove sono?», chiese. L'altro gli spiegò che tre quarti di lega più avanti c'era a Zonder, un borgo dove sarebbe stato ben curato. Fabrizio arrivò nel borgo senza avere molta coscienza di quel che faceva. Il suo unico pensiero, a ogni passo, era quello di riuscire a non cadere. Vide una porta aperta, entrò. Era la locanda della striglia. Subito accorse la buona padrona di casa, un demone enorme, che si mise a gridare aiuto con una voce alterata dalla compassione. Due ragazze aiutarono Fabrizio ad appoggiare i piedi in terra. Appena sceso da cavallo, svenne. Chiamarono un dottore, gli fecero un salasso. Di quel giorno e degli altri che seguirono, Fabrizio non ebbe mai grande coscienza. Dormì quasi ininterrottamente. La ferita di punta alla coscia rischiava di provocare una infezione. Quando tornava in sé, si raccomandava che badassero al cavallo e continuava a dire che avrebbe pagato bene, il che offendeva la buona locandiera e le sue figlie. Dopo quindici lunghi giorni di cure ammirevoli, Fabrizio cominciava a rimettere insieme le idee, quando una sera si accorse che le sue ospiti avevano un'aria molto preoccupata. Poco dopo entrò nella stanza un ufficiale tedesco. Per rispondergli ci si servì di una lingua sconosciuta, ma Fabrizio capì che parlavano di lui e finse di dormire. Dopo un po', quando credette che l'ufficiale se ne fosse andato, chiamò le sue ospiti. «Ha segnato il mio nome su una lista e vuole farmi prigioniero, vero?» Con le lacrime agli occhi, la locandiera l'ammise. «Là nel mio dolman ci sono dei soldi!» esclamò Fabrizio, alzandosi a sedere sul letto. «Andate a comprarmi dei vestiti da civile e questa notte me ne andrò col mio cavallo. Mi avete già salvato la vita una volta, quando mi avete raccolto mentre stavo per morire in mezzo alla strada. Salvatemi di nuovo e lasciatemi raggiungere mia madre». A quelle parole le figlie della padrona scoppiarono a piangere. Tremavano per Fabrizio, capivano appena il francese e per fargli qualche domanda dovevano avvicinarsi al letto. Poi si misero a discutere in fiammingo con la madre, ma lanciavano di continuo tenere occhiate a Fabrizio. Gli parve di capire che la sua fuga poteva seriamente comprometterle, ma che erano ben decise a correre il rischio. Le ringraziò di cuore a mani giunte. Un ebreo del paese fornì un abito completo, ma quando lo portò verso le dieci di sera, le ragazze si accorsero confrontandolo col dolman di Fabrizio che bisognava restringerlo parecchio. Si misero subito al lavoro, non c'era un minuto da perdere. Fabrizio indicò dove erano nascosti i Napoleoni e pregò le sue ospiti di cucirli negli abiti appena comperati. Avevano portato anche un bel paio di stivali nuovi. Senza esitare, Fabrizio chiese a quelle buone ragazze di tagliare gli stivali da ussaro all'altezza da lui indicata e fece nascondere i diamanti nella fodera dei nuovi stivali. Curiosamente, per effetto della perdita di sangue e della conseguente debolezza, Fabrizio aveva scordato quasi del tutto il francese. Si rivolgeva in italiano alle ospiti che parlavano in dialetto fiammingo e perciò riuscivano a capirsi soltanto a gesti. Quando le ragazze, peraltro del tutto disinteressate, videro i diamanti, il loro entusiasmo non ebbe più limiti. Lo credettero un principe in incognito. Anican, la più giovane e la più ingenua, non esitò a dargli un bacio. Fabrizio poi le trovava incantevoli. Verso mezzanotte, dopo aver bevuto un po' di vino che il medico gli aveva concesso in vista del viaggio, aveva quasi voglia di restare. «Dove potrei star meglio?» pensava. Comunque, verso le due si vestì. Al momento di uscire, la buona locandiera dovette confessargli che il suo cavallo era stato portato via dall'ufficiale, lo stesso che qualche ora prima era venuto a perquisire la casa. «Canaglia!» gridò Fabrizio imprecando. «Fare questo a un ferito!» Non era ancora abbastanza filosofo, questo giovane italiano, per ricordarsi a quale prezzo anche lui aveva comperato il cavallo. Anican lo informò piangendo che ne avevano noleggiato un altro. Non voleva che partisse. Gli addi furono toccanti. Due ragazzoni parenti della locandiera hissarono Fabrizio in sella. Durante il percorso gli stettero vicino per sorreggerlo, mentre un terzo che precedeva il gruppetto di qualche centinaio di passi ispezionava che non vi fossero pattuglie sospette sulla strada. Dopo due ore si fermarono a casa di una cugina della locandiera della striglia. Malgrado le proteste di Fabrizio, i tre giovani non vollero lasciarlo andare da solo. Dicevano di conoscere i passaggi nei boschi meglio di chiunque altro. «Ma domattina, quando si saprà della mia fuga e non vi si vedrà in paese, potreste avere delle noie». Si rimisero in marcia. Per fortuna, quando spuntò il giorno, sulla pianura c'era una fitta nebbia. Verso le otto arrivarono nei pressi di una cittadina. Uno dei tre andò avanti a vedere se qualcuno non avesse rubato i cavalli di posta. Il padrone aveva fatto in tempo a nasconderli e a sostituirli alla meglio con dei brutti ronzini. Andarono a prendere due cavalli in un nascondiglio nelle paludi e tre ore dopo Fabrizio poteva salire in un calessino molto mal ridotto, ma tirato da due buoni cavalli di posta. Stava tornando in forze. Il momento della separazione fu molto patetico e malgrado i più garbati pretesti di Fabrizio, i giovani rifiutarono decisamente il suo denaro. «Nel suo stato, signore, ne ha più bisogno lei di noi», ripetevano quei bravi giovani. Alla fine se ne andarono con le lettere in cui Fabrizio, rinfrancato dai sobbalzi del calessino, aveva cercato di esprimere alle sue ospiti quello che sentiva per loro. Le aveva scritte con le lacrime agli occhi e c'era sicuramente un po' d'amore nella lettera per la piccola Anakin. Il resto del viaggio fu senza imprevisti. Quando arrivò ad Amiens, la ferita alla coscia ricominciò a fargli molto male. Il medico di campagna non aveva pensato a incidere la ferita e malgrado i salassi si era formata un'infezione. Durante i quindici giorni che Fabrizio passò ad Amiens, in una locanda tenuta da gente cerimoniosa e avida, gli alleati invasero la Francia e Fabrizio fece tali e così profonde riflessioni su quanto gli era capitato che divenne quasi un altro uomo. Era rimasto bambino solo su un punto. Quello che aveva visto era davvero una battaglia e, in secondo luogo, era la battaglia di Waterloo. Per la prima volta in vita sua provò piacere a leggere. Sperava sempre di trovare nei giornali o nei resoconti della battaglia qualche descrizione che gli permettesse di riconoscere i luoghi che aveva attraversato al seguito del maresciallo Ney e, più tardi, con l'altro generale. Durante il giorno ad Amiens scrisse quasi tutti i giorni alle sue care amiche della striglia. Appena guarito tornò a Parigi. Nel suo vecchio albergo trovò venti lettere della madre e della zia che lo supplicavano di tornare al più presto. L'ultima lettera della contessa Pietra Nera aveva un tono enigmatico che gli diede molto da pensare e lo strappò alle sue tenere fantasticherie. A un carattere come il suo bastava una parola per prevedere le più tremende disgrazie. Poi l'immaginazione si incaricava di dipingere quelle disgrazie nei più orribili particolari. «Bada di non firmare le lettere che scrivi per darci tue notizie», gli diceva la contessa. «Tornando qui, non venire subito sul lago di Como, fermati a Lugano, in territorio svizzero». Doveva arrivare sotto il nome di Cavi. Nel principale albergo della cittadina avrebbe trovato il valletto della contessa, che gli avrebbe dato altre istruzioni. La lettera della zia finiva con queste parole. «Non devi per nessun motivo raccontare la pazzia che hai fatto e soprattutto non portare addosso nessun foglio stampato o scritto. in Svizzera sarai circondato dagli amici di Santa Margherita. Se avrò dei soldi, gli diceva, manderò qualcuno a Ginevra, all'albergo delle bilance, e lì ti daranno altri particolari che non posso scriverti, ma che devi sapere prima di tornare. In nome di Dio, non passare un giorno di più a Parigi. Le nostre spie ti riconoscerebbero subito». L'immaginazione cominciò a suggerire a Fabrizio le ipotesi più strane e l'unico piacere che si concesse fu tentar di indovinare la natura dei misteri cui alludeva la zia. Nel traversare la Francia lo fermarono due volte, ma seppe cavarsela. A dargli delle noie fu il passaporto italiano e la strana professione di mercante di barometri che mal si conciliava con la sua faccia da ragazzo e il braccio al collo. Finalmente, a Ginevra, trovò un uomo mandato dalla contessa. Venne così a sapere che proprio lui, Fabrizio, era stato denunciato alla polizia di Milano per essere andato a portare a Napoleone i piani del grande complotto organizzato nell'ex Regno d'Italia. «Se lo scopo del viaggio fosse stato un altro», diceva la denuncia, «perché mai avrebbe dovuto assumere un nome falso. Sua madre, poi, avrebbe cercato di provare la verità, e cioè, primo, che non era mai uscito dalla Svizzera, secondo, che aveva lasciato all'improvviso il castello dopo un litigio col fratello maggiore. Fabrizio provò un attimo d'orgoglio. «Dunque, io sarei stato una specie di ambasciatore presso Napoleone», pensò, «avrei avuto l'onore di parlare a quel grande uomo, magari fosse vero». Poi si ricordò che il suo settimo antenato, il nipote di quello che arrivò a Milano al seguito degli Sforza, aveva avuto l'onore di farsi tagliare la testa dai nemici del duca, che lo avevano fermato mentre stava andando in Svizzera per proporre a quegli encomiabili cantoni di unirsi a lui e offrire delle reclute. Rivedeva con gli occhi del cuore la stampa che illustrava quell'avvenimento, conservata nella genealogia di famiglia. Interrogò il cameriere. Era indignato per qualcosa, per un motivo che alla fine gli sfuggì, benché la contessa gli avesse più volte ordinato di tacere. Era stato Ascanio, suo fratello maggiore, a denunciarlo alla polizia di Milano. A quella crudele notizia, il nostro eroe ebbe quasi una crisi di follia. Per andare in Italia da Ginevra si passa per Losanna. Lui volle partire a piedi senza indugio e percorrere dieci o dodici leghe senza aspettare la diligenza, che sarebbe passata due ore dopo. Prima di uscire da Ginevra, in uno dei malinconici caffè della città, litigò con un giovane che secondo lui lo guardava in modo strano. Ed era vero perché quel flemmatico Ginevrino, assennato e attento ai soldi, lo aveva preso per matto. Entrando, Fabrizio aveva lanciato contro tutti occhiate furibonde. Poi si era rovesciato sui pantaloni la tazza di caffè appena servita. Nel litigio, la prima mossa di Fabrizio fu di chiaro stampo cinquecentesco. Senza nemmeno accennare ad un duello, tirò fuori il pugnale e si lanciò contro il giovane per colpirlo. In quell'istante di passione aveva dimenticato tutto quanto sapeva sul codice d'onore ed era ritornato all'istinto, o per meglio dire, ai ricordi della prima infanzia. A Lugano, un uomo di fiducia della contessa, gli diede nuovi particolari che aumentarono il suo furore. Tutti amavano Fabrizio a Grianta e nessuno, se interrogato, avrebbe fatto il suo nome. Senza il gentile intervento del fratello avrebbero finto di credere che era a Milano e l'attenzione della polizia non sarebbe mai caduta sulla sua assenza. I doganieri avranno i suoi connotati, disse l'inviato della zia. Se prendiamo la strada maestra, l'arresteranno alla frontiera del regno Lombardo-Veneto. Fabrizio e i suoi informatori conoscevano ogni sentiero della montagna che separa Lugano dal lago di Como. Si travestirono da cacciatori, ovvero da contrabbandieri, e siccome avevano tre facce piuttosto decise, nell'incontrare i doganieri questi si limitarono a salutarli. Fabrizio fece in modo di arrivare al castello verso mezzanotte. A quell'ora suo padre e tutti i domestici incipriati erano a letto da un pezzo. Scese senza fatica nel fossato e penetrò nel castello dalla finestrella di una cantina. Là lo attendevano la madre e la zia. Presto arrivarono anche le sorelle. Effusioni d'affetto e lacrime continuarono per ore. Avevano appena cominciato a parlare con un po' di buonsenso quando le prime luci dell'alba vennero ad avvertire quegli esseri che si credevano infelici che il tempo volava. «Spero che tuo fratello non sospetti il tuo arrivo», disse la signora Pietranera. «Non gli avevo quasi più rivolto la parola dopo quella bella prodezza, e il suo amor proprio mi faceva l'onore di mostrarsi offeso. Ma questa sera a cena mi sono degnata di parlargli. avevo bisogno di trovare un pretesto per nascondere la mia gioia, che poteva insospettirlo. Poi, quando ho visto che era tutto orgoglioso della nostra falsa riconciliazione, ne ho approfittato per farlo bere un po' e di certo non gli sarà venuto in mente di appostarsi per continuare il suo mestiere di spia». «Dobbiamo nascondere il nostro ussaro nelle tue stanze», disse la Marchesa. «Non può andarsene così su due piedi. Non siamo ancora lucide e dobbiamo studiare il piano migliore per eludere la terribile polizia di Milano». Seguirono la sua idea, ma il giorno dopo non sfuggì né al Marchese né al figlio maggiore, che la Marchesa stava sempre chiusa nelle stanze della cognata. Non ci dilungheremo a descrivere i momenti di tenerezza e di gioia che per tutto il giorno vissero quegli esseri tanto felici. In confronto al francese, il cuore italiano è molto più in preda ai sospetti e alle folle idee suggerite da un'ardente immaginazione, ma in compenso prova gioie più intense e sa farle durare più a lungo. Quel giorno la Contessa e la Marchesa avevano completamente perso la testa. Fabrizio dovette raccontare cento volte la sua storia. Alla fine decisero di andare a nascondere la loro grande gioia a Milano. Capivano quanto fosse difficile sottrarsi più a lungo alla polizia del Marchese e di Ascanio. Presero la barca di casa per andare a Como. Agire diversamente avrebbe destato mille sospetti, ma appena arrivati a Como, la Marchesa finse di avere dimenticato a Grianta certe carte della massima importanza. Mandò subito indietro i barcaioli che non poterono riferire niente sulle ore passate a Como dalle due signore. Presero la prima carrozza in attesa di clienti, ferma vicino all'alta torre medievale che si eleva sopra la porta di Milano. Partirono in tutta fretta prima che il cocchiere avesse il tempo di parlare a qualcuno. A un quarto di lega dalla città incontrarono per caso un giovane cacciatore di loro conoscenza. Per gentilezza, siccome nessuno accompagnava le signore, si offrì di far loro da cavaliere fino alle porte di Milano, dove anche lui era diretto. Tutto filava per il meglio. Le signore conversavano allegramente col giovane viaggiatore quando, alla curva che fa la strada per costeggiare la dolce collina boscosa di San Giovanni, tre gendarmi in borghese afferrarono i cavalli per le briglie. «Ah, mio marito ci ha traditi!» gridò la Marchesa e svenne. Un sergente, che era rimasto un po' indietro, si avvicinò alla carrozza barcollando e con una voce che pareva uscire da un'osteria disse «Sono addoloratissimo della missione che devo compiere, ma lei è in arresto, generale Fabio Conti!» Fabrizio credette che il sergente volesse fargli uno scherzo di cattivo gusto, chiamandolo generale. «Me la pagherai», pensò. Guardava i gendarmi in borghese e aspettava il momento migliore per saltar giù dalla carrozza e scappare nei campi. Tanto per provare, credo, la contessa sorrise. Poi disse al sergente «Ma mio caro sergente, come può scambiare un ragazzino di sedici anni per il generale Conti?» «Ma lei non è la figlia del generale», disse il sergente. «Sì, e quello è mio padre», disse la contessa indicando Fabrizio, e tutti i gendarmi scoppiarono a ridere. «Fuori i passaporti e basta coi discorsetti», disse il sergente, seccato da quell'ilarità generale. «Le signore non li prendono mai per andare a Milano», disse filosoficamente il cocchiere con aria distaccata. «Vengono dal castello di Grianta. Questa è la signora contessa Pietranera e quella la signora Marchesa del Dongo». Sconcertato, il sergente si fermò davanti ai cavalli e cominciò a consultarsi con i suoi uomini. La discussione durava già da cinque minuti. La contessa Pietranera li pregò di lasciare avanzare la carrozza appena di qualche passo per raggiungere un posto all'ombra. Benché fossero solo le undici di mattina, c'era un caldo tremendo. Fabrizio, in cerca di una possibile via di fuga, si guardava intorno con grande attenzione. Vide sbucare da un sentiero tra i campi una ragazzina di quattordici o quindici anni. Camminava verso di loro per la strada polverosa e piangeva timidamente, stropicciandosi nel suo fazzolettino. Veniva avanti tra due gendarmi in uniforme. Tre passi indietro, ancora con due gendarmi a fianco, c'era un uomo alto e secco che ostentava un'aria molto dignitosa, come un prefetto a una processione. «Dove li avete trovati?» disse il sergente del tutto brillo in quel momento. «Scappavano per i campi e senza passaporto». A quel punto il sergente parve proprio non raccapezzarsi più. Invece di due prigionieri, come avrebbe voluto, se ne trovava davanti cinque. Fece qualche passo indietro, lasciando solo un uomo di guardia al prigioniero dall'aria solenne e un altro vicino ai cavalli, per impedire alla carrozza di avanzare. «Resta qui, fermati», disse la contessa Fabrizio, che era già saltato a terra. «Andrà tutto per il meglio». Si sentì un gendarme esclamare «Che importa, se non hanno il passaporto vanno arrestati?». Il sergente non sembrava altrettanto deciso. Il nome della contessa Pietra Nera lo metteva in agitazione. Aveva conosciuto il generale e non sapeva che era morto. «Il generale è un tipo che si vendica», pensava, «se arresto sua moglie senza un buon motivo».